Bene ragazzi, ultimo video, camicia rosa, ne ho altre ancora però, i video finiscono quindi non è che posso cambiare camicia ancora ancora ancora, comunque un po' ironica come cosa ma effettivamente quando carichi 10.000 video tutti in una volta, almeno una cosa nuova, ti metti una camicetta con un colore diverso, comunque, 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 abbiamo fatto tutte le fratture, tutte erano carine quelle del bacino, erano molto complesse quelle del piede, vi dico la verità. Adesso facciamo le fratture vertebrali, anche se non è che mi preoccupano molto. Allora, in primis abbiamo una distinzione quando appunto per i collegamenti anatomici tra midollo spinale e vertebre in fratture mieliniche a mieliniche, a seconda appunto che ci sia o meno l'interessamento midollare. Bene, arriviamo a parlare delle fratture dorso-lombari. L'80% delle fratture vertebrali sono dorso-lombari. La massima incidenza si riscontra in ordine decrescente a livello del primo lombare, della dodicesima dorsale e del secondo lombare. Quindi primo lombare, dodicesima dorsale, secondo lombare. Allora, la patogenesi, maggiormente il sesso maschile, età adulta, traumi indiretti che tendono a iperflettere, iperestendere o ruotare il rachide. Ok. Quel che accade più frequentemente è che il corpo vertebrale nel posto di massima curvatura si schiaccia per compressione, no? Tra i metameri sottostanti e sovrastanti. Se alla frattura del corpo si associa quella dei peduncoli, delle lamine o delle apofisi articolari, può verificarsi la dislocazione del corpo sovrastante. Cioè, siccome i rapporti sono poi tra le faccette articolari, no? Con le apofisi articolari o le lamine in sé, per le apofisi interspinose, no? Questo spiegherebbe perché potremmo avere, oltre che la compromissione midollare, la lussazione del soprastante. Se l'evento traumatico agisce prevalentemente con sollicitazioni di slittamento o torsione intermetamerica, potremmo avere le rare fratture isolate dei peduncoli, delle lamine, delle apofisi, degli istmi. Queste sono quelle proprio da torsione intermetamerica. Frequenti invece sono quelle da strappamento delle apofisi trasversa o spinosa. Nell'età senile, maggiormente il sesso femminile, quindi nell'età adulta maggiormente il maschile, schiacciamento fondamentalmente, soprattutto legato all'osteoporosi. Poi ci sono cause misconosciute. Oltre alle fratture da trauma indiretto e quelle da osteoporosi, possono aversi raramente anche fratture per trauma diretto, bastonate, colpi d'arma da fuoco, eccetera. Classificazione, allora. Le fratture di trauma indiretto si è preferito riportare che, fondamentalmente in funzione della proniosi e dei dischi intervertebrali adiacenti, distinguerle in fratture anteriori del corpo, fratture posteriori dell'arco, fratture totali del corpo e dell'arco, senza o con dislocazione. Le fratture anteriori sono discoarticolari, somatiche, discosomatiche, le posteriori apofisari, dei pedunque e delle lamine e degli istmi. Per quanto riguarda sintomatologia, dolore spontaneo, evocato dalla pressione spinosa, rigidità del rachide, importante, contrattura muscolare antalgica, deformità ad angolo acuto del rachide, quindi a gibbo, soprattutto nei gravi schiacciamenti. Vabbè, un paziente gravemente traumatizzato, tu devi pensare subito che ci può essere una frattura del rachide, ok. Il sospetto poi sarà rimosso con l'esame radiografico, che verrà esteso a tutto il rachide, nelle due proiezioni ortogonali. Quali sono le complicazioni? Allora, compromissione midollare immediata, quindi non frequente ma molto temibile, alterazioni commotive, contusive del midollo, eccezionalmente compressione o sezione. E possiamo avere, per esempio, una paralisi flaccida della muscolatura degli arti inferiori, paraplegia, assenza di riflessi anestesia più o meno estese, in rapporto a livello della lesione midollare o radicolare, paralisi degli sfinteri e shock. Successivamente, regredito lo shock, si può assistere alla regressione dei sintomi descritti, quindi della riflessia anestesia, della paralisi flaccida dei muscoli inferiori, delle problematiche sfinteriali di paralisi. E questi, insomma, qualora dovessero persistere per più di 8-10 giorni, lo vuol dire che abbiamo dei danni irreversibili. Se la lesione è interessata in midollo al di sopra del cono midollare, la porzione distale riprende una sua funzione, automatismo midollare. Quindi alla paralisi flaccida subentra la spastica, col segno di Babinski, con trazioni e clonie, con automatismo vescicale, quando appunto la distale riprende funzione. Sopra il cono però deve essere il trauma. Se la lesione interessa il cono e la cauda equina, manca l'automatismo vescicale, quindi il paziente si farà la pipì addosso. Alla paraplegia, quindi per le problematiche di paralisi flaccida, per lesione midollare, agli arti inferiori, avremo altre complicazioni, piaghe da decubito, cisto, cistopieliti, per il ristagno, per i ripetuti cateterismi, per il ristagno urinario, edemi e trovo flibiti degli arti inferiori, vasoparalisi, infezioni broncopolmonitiche. Queste le avevamo anche nelle problematiche... Mi sa che queste erano del femore, le broncopolmonitiche, cisto, cistopieliti. Ora ci arrivo subito. Eh, infatti. Del femore prossimale. Poi, tra le altre complicazioni, abbiamo la discopatia degenerativa e poi l'instabilità. Il trattamento. Nelle fratture dorsolombari, senza compromissione midollare, il trattamento è in rapporto al tipo di lesione anatomica e al grado di instabilità. Allora, per le fratture che erano somatiche e discosomatiche, quindi delle fratture anteriori con schiacciamento anteriore appunto del corpo vertebrale, riduzione della frattura, immobilizzazione e concorso gessata. Ok. Le fratture con modesto schiacciamento che non necessitano di riduzione, trattamento e immobilizzazione con busso rigido per 90 giorni. Poi fai un ciclo di rieducazione motorie. Qualora invece in fase acuta ci siano segni di instabilità e deformità locali all'Rx e risonanza magnetica, trattamento chirurgico della deformità e correttivo appunto, con estabilizzazione con tecniche percutane o a cielo aperto. Percutane significa cielo chiuso. Negli schiacciamenti somatici invece da osteoporosi il trattamento ha un busto di iperestensore, un'idonea terapia medica. Per la pseudo invece artrosi di queste fratture su base metabolica, nelle fasi acute, vabbè, gli interventi di vertebro cifoplastica, per rinforzo e riduzione della frattura, in primis. Nelle fratture isolate delle apofisi trasversali o spinose, queste condizioni... Un attimo solo... Appunto... Quelle sono le isolate, sì? Cosa si fa per le forme isolate? Trasversali o spinose, una breve immobilizzazione in busto per 15-20 giorni per attenuare i dolori e la contrattura muscolare paravertebrale con ripresa poi di deambulazioni. In alcuni casi è opportuna la stabilizzazione chirurgica per evitare spostamenti secondari e relative complicanze neurologiche. Nelle complicanze neurologiche la terapia è poi subordinata chiaramente all'accertamento TAC risonanza magnetica. Se c'è una stenosi del canale o un frammento osseo che causa il danno neurologico, bisogna rivedere e quindi chirurgicamente il focolaio di frattura per rimuovere l'ostacolo, fare un'artrodesi per il segmento vertebrale interessante. In caso di complicanze neurologiche, indipendentemente dal trattamento chirurgico, è fondamentale la terapia di prevenzione dei decubiti, delle complicanze settiche, degli atteggiamenti viziosi, di rieducazione vescicale e motoria del paziente. Già che abbiamo detto che quando noi abbiamo un danno immediato, rischiamo la condizione anche dello shock, la riflessia, anestesia, la paralisi degli sfinteri, l'ipoestesia con paralisi flaccida dei muscoli e degli arti inferiori. Queste sono le fratture dorsolombari. Per le fratture cervicali, le prime due vertebre sono molto rare, quindi epistrofeo-atlante. Data l'ampiezza del canale rachideo a quel livello, non si accompagnano complicanze midollari. Quando però si verifica, è morta immediata. Vediamo adesso rapidamente queste fratture. Fratture dell'atlante. Allora, sollecitazioni compressive del capo, dato l'orientamento del piano articolare esistente tra condili occipitali e masse laterali dell'atlante, la sollecitazione compressiva si scompone in due forze divergenti che tengono ad allungare trasversalmente la vertebra, capito? L'esatto opposto di quello che succedeva nelle forze trasversali che opprimevano il piano del bacino, ok? E dove c'è il punto di minor resistenza, cioè sull'arco posteriore della vertebra, lì si va a rompere. Avremo dolore, rigidità del capo, nevralgia nel territorio del nervo occipitale, quindi immobilizzazione in minerva gessata per almeno due o tre mesi con graduale fisiochinesi terapia. Ritorniamo un attimo al bacino. E ci tengo a chiarirlo anche questo per vedere un attimo. Allora, eh sì, anche nel bacino avevamo lo shock, le problematiche dell'apparato urinario, le lesioni dei visci, di addominali, le lesioni vascolari, sì. Ma quello che mi interessava a me era il tipo di trauma. Appunto, sollecitazioni trasversali che schiacciano le due aliiliache, oppure sagittali che lo ovalizzano, quindi queste assomigliano molto al trauma, per esempio, dell'Atlante, oppure quelle verticali. Vabbè, tornando di nuovo alle fratture cervicali. L'epistrofeo, beh, il caro dente dell'epistrofeo, apofisi odontoide che si frattura alla base, fondamentalmente la lesione compressiva, con flessione anteriore del capo, associata all'ussazione e sublussazione della prima vertebra. La sintomatologia e i trattamenti sono analoghi per la frattura dell'Atlante, quindi parleremo di dolore, rigidità, nevralgia per il nervo occipitale, immobilizzazione in minerva gessata per 20-30, per 2-3 mesi. Seguito. Allora, ragazzi, perdonatemi che sono dovuto scendere un attimo perché era arrivato il postino. Quindi, per le fratture dell'epistrofeo, che sono oda, compressione o flessione anteriore, abbiamo detto la sintomatologia, ve la ripeto, non fa male, dolore, rigidità del capo, nevralgia nel territorio dell'occipitale, terapia con immobilizzazione in minerva gessata per 2-3 mesi e graduale fisiochinesi terapia. A volte, se si tratta di una frattura scomposta oppure instabile del dente e dell'epistrofeo, allora intervento chirurgico di osteosintesi del dente oppure artrodesi posteriore C1-C2. Artrodesi posteriore. Questo quando interessa il dente perché alle volte la frattura può essere laterale. Le fratture delle ultime 5 vertebre cervicali sono molto meno frequenti, delle fratture dorsolombari, così come, appunto, dell'epistrofeo dell'Atlante. No, queste sono rare, scusate. Ci muori, ma sono rare. Sono molto meno frequenti rispetto alle dorsolombari, le altre 5 verticali, ma rispetto alle prime due verticali, le altre 5 verticali. Sono frequenti, sono esposte a complicanze neurologiche, traumi, fletteri bruscamente, schiacciare il rachide cervicale, urto contro il parabrezza, caduto di gravi sul capo, tuffi a capofitto su fondali bassi. In queste evenienze possono verificarsi lesioni della limitante della spongiosa subcondrale, oppure fratture discosomatiche con frammentazione e scoppio del corpo. In alcuni casi, come nelle fratture del margine antinoinferiore del corpo vertebrale, può essere invocato un meccanismo di strappamento da parte del legamento longitudinale anteriore per brusca iperestensione del corpo. Figurati, nel tamponamento immobilistico che tu fai così, vai in iperestensione acuta, rischi di strappare il legamento longitudinale anteriore. Quindi, o fletti bruscamente o schiacci, poi limitante spongiosa subcondrale, ok, oppure discosomatiche. Le discosomatiche sono le anteriori, ok. Oppure questo discorso dello strappamento del legamento anteriore per iperestensione brusca. Poi ci possono anche essere condizioni di rotazione, scivolamento, inclinazione laterale, quindi associata alla frattura del corpo può esserci la frattura delle apofisi articolari con conseguente lussazione o restringimento del canale midollare. Se alla frattura lussazione di un corpo è associata alla frattura dell'arco posteriore, può mancare la compromissione midollare, quindi frattura salvatrice dell'arco. anche la proniosi delle cervicali dipende appunto dal meccanismo, dall'instabilità della lesione, meccanismo traumatico. Allora, sintomatologia, atteggiamento coatto del capo in flessione, quindi cifosi cervicali. Dolore spontaneo, contrattura muscolare, torcicollo. Se sussissono complicazioni midollari, tetraplegia flaccida con assenza dei riflessi. Tetraplegia, non paraplegia, perché paraplegia è solo per gli arti inferiori, per le condizioni dorsolombari. Tetraplegia flaccida, proprio una condizione che interessa tutti gli arti superiori e inferiori. Paralisi vescicale e rettale, paralisi respiratoria sulla lesione al di sopra della terza vertebra cervicale, paralisi del diaframma in nervofrenico, origine infatti dalla terza radice cervicale. Tutte le tube già descritte a proposito delle fratture mieliniche dorsolombari, quindi cistopieliti, decubiti, broncopolmoniti. Quindi capite che cacchio di complicazioni. Si differenzia il trattamento delle fratture dorsolombari in quanto la riduzione incruente è difficilmente ottenibile. La immobilizzazione va effettuata con una minerva gessata per tre mesi. Se coesiste sublussazione e lussazione, la riduzione può essere ottenuta applicando al mento e all'orcipide del paziente una fionda di glisson. Una fionda che ti solleva il collo, ma non verso l'alto, tu sei supino e te lo tira indietro, che gradualmente trazione il capo, quando abbiamo sublussazione e lussazione. Talvolta tale tecnica, non sempre efficace ma tollerata dai pazienti, si associa la tranzione transparietale alla Crutchfield, cioè stessa trazione Allora, non l'ho capito un attimo, scusate, tale tecnica con trazione transparietale di Crutchfield Ah, ecco perché, ho capito. Se nel primo caso c'è una trazione di questo tipo, quindi a livello occipitale e a livello del mento, qua abbiamo una trazione soltanto a livello parietale, quindi un po' scomoda per mangiare, per respirare, però si fa, si sopporta. Ecco, ottenuta la riduzione della lussazione, si procede all'immobilizzazione del capo e del collo con la minerva gessata per tre mesi. Se la riduzione è instabile o impossibile, allora devi fare stabilizzazione e riduzione chirurgica. Quando sussissono complicanze neurologiche, valgono gli stessi criteri terapeutici esposti in precedenza, cioè fondamentalmente studio con risonanza magnetica ed RX. Poi, se c'è una compromissione del canale, devi fare, o di un frammento osseo, una revisione chirurgica contro l'ostacolo. Evitare fondamentalmente, facendo il trattamento chirurgico, quelle problematiche legate, per esempio, neurologiche che noi abbiamo detto, quando è una lesione sopra la terza vertebra cervicale, paralisi respiratoria, paralisi del diaframma, poi paralisi vescicali e rettali, paralisi con tetraplegia flaccida, e poi le lesioni legate alle broncopolmoniti, decupiti e cistopieliti. Ok, penso che ho detto tutto, sto controllando. Ho detto tutto. Abbiamo finito con le fratture, ragazzi. Au revoir.